C'è ragazzi bentornati sul mio canale youtube. Ieri è uscita un'altra evoluzione a tema stelle del futuro e stavolta il reparto interessato non è l'attacco ma bensì la difesa. Sarà molto interessante perché sono dei giocatori che sarà possibile andare a utilizzare anche in un reparto che come al solito ha una grandissima varietà di giocatori e che si andrà a rimpolpare ulteriormente di carte molto valide ma oggi ovviamente insieme ci andiamo a vedere insieme quali sono le carte più carine da andare a devolvere. L'evoluzione in questione è la Future Stars Academy Defender ed è un'evoluzione ancora una volta totalmente gratuita che ci dà la possibilità di andare a devolvere un pool ristretto di giocatori che ci sono stati conferiti ieri alle 19 in un apposito pacchetto regalato direttamente da EA Sports. Vi ricordo che questa evoluzione è uscita per due vuol dire che voi potrete andare ad evolvere in due evoluzioni uguali ma differenti due giocatori ovviamente che vi piacciono e pensate possano entrare a far parte delle vostre squadre. Vediamo i requisiti che ovviamente riguardano giocatori che non stanno facendo un'altra evoluzione a tema Future Star e che non sono delle evoluzioni in corso hanno massimo playstyle uguale a 9 un parametro di passaggio massimo 83 difesa minimo 78 0 playstyle plus e un tiro di massimo 78. I giocatori che ci sono stati conferiti per poter fare questa evoluzione sono i seguenti. Abbiamo Theat, Kossonu, Garcia, Gertrida, Wilms, Tolkien, Bayer, Svava, Parisi, Assignon e Sergio Gomez. Gli upgrade che vanno a prendere dopo questa evoluzione sono notevoli perché parliamo di un più uno di stelle skill e piede debole, playstyle normale del press proven ovvero il cosiddetto microonde e ben addirittura due playstyle plus. L'infaticabile è l'autoblock che workano benissimo insieme. Poi più 6 di overall, più 6 di velocità, più 7 passaggio, più 6 dribbling, più serie attività, più 4 fisico, più 6 difesa e più 5 di composure ovvero di freddezza. Andiamo a vedere adesso quali sono secondo me i giocatori più carini e interessanti per questa evoluzione Academy Defender. Il primo di cui voglio parlare è Gertrida, un centrocampista che magari chi segue anche le vicende calcistiche dell'Erauma magari ormai conoscerà a memoria e anzi si appresta a doverlo rivedere visto che gioca nel Feyenoord. È un terzino destro che però ha dei ruoli alternativi molto interessanti perché può fare il difensore centrale e anche il cdc quindi il mediano davanti la difesa. Come possiamo andare a vedere è un giocatore dotato di una forte fisicità perché è un metro e 85 quindi bello piazzato. Con l'upgrade che gli conferisce questa evoluzione andrebbe a prendere 87 di velocità, 81 di passaggio, 85 di dribbling, 88 di difesa e 87 di fisico. Per un giocatore che ha normale alto di work rate e diventerebbe tre stelle skill e quattro piede debole che comunque se lo vogliamo giocare sia per quanto riguarda il ruolo di difensore sia per quanto riguarda il ruolo magari di mediano in mezzo al campo sono dei parametri molto utili perché tanto non è che skilliamo più di tanto e quattro i piedi debole ci fa già molto bene ma andiamo a vedere le statistiche interne alla carta perché abbiamo un controlled lengthy come accelerate velocissimo dato di un ottimo passaggio corto anche di un buon lungo. Parametri di agilità equilibrio e dlimming per un giocatore di un metri 85 con ben 89 di forza sono comunque accettabilissimi e oltre ai playstyle di cui vi dicevo prima abbiamo anche il procione base, il rapido, il press proven conferitoli dall'evoluzione, il forte di testa e l'L2 ovvero il jockey, l'affronta. Questa qui è una carta molto completa da giocare secondo me difensore centrale ma anche in mezzo al campo soprattutto per i playstyle il base del procione e del microonde ovvero il press proven che gli conferiscono la possibilità di poter aggredire, di potersi destreggiare contro anche avversari più fisici perché in mezzo al campo se ne incontrano. Quindi questa carta qua considerando anche che queste carte stelle del futuro dovrebbero andare a 3 di intesa risolve dei problemi abbastanza interessanti in squadre dove magari si deve anche linkare Van Dijk quindi gli serve un plus di un olandese, c'è De Jong insomma. Una carta che anche dal punto di vista di intese che vengono dati ai suoi compagni di squadra può risultare molto comoda. Un altro giocatore molto simpatico è Odilon Kossonu che qualcuno magari ricorderà perché si è fatto la 100 tiri challenge di ZAV Jackson recentemente, è un difensore centrale che può fare anche il terzino destro, è anche lui molto fisico perché parliamo di 1,91 di cristiano bello spesso in game, con l'evoluzione diventa un 3-4 quindi 3 stelle skill e 4 piede debole, passo alto il work rate quindi questo praticamente full difesa, 88 velocità, 74 passaggio, 79 dribbling, 88 di difesa e 88 di fisico per quanto riguarda giocatore che poi andrebbe a guadagnare anche playstyle della scivolata, del passaggio calibrato e del lancio lungo che per un difensore centrale nell'andare ad impostare l'azione possono servire. Questo giocatore poi è mostly lengthy come accelerate dove va a sfruttare dunque maggiormente la sua velocità scatto che è 91 rispetto all'84 di accelerazione, bene i passaggi, 85 di corto e di lungo. Ovviamente parlando di un difensore centrale specchiamo leggermente di equilibrio ma abbiamo ben 75 di agilità e addirittura 93 di reactions che è tantissima roba. Statistiche difensive di cui non vi parlo neanche perché abbiamo 86 di lettura, 89 di intercetto, 88 di precisione di testa, 89 scivolata, 89 di contrasto in piedi, il tutto boostato anche dal playstyle della scivolata base. 85 di stamina, 90 di forza, 82 di aggressività. Questo è un giocatorone che secondo me piazzato difensore centrale è veramente una mina perché voi immaginatevi un colossone di 1,91 che corre così tanto ed è dotato anche di questi playstyle soprattutto non si stanca grazie alla batteria e questo è un incubo per tutti gli attaccanti avversari, anche quelli più veloci. Un altro giocatore che mi piace parecchio poi è questo Sergio Gomez del Manchester City, spagnolo, giocatore di 1,71, piede mancino che è voluto arriva a 5 skill e 4 piede debole, quindi statistiche di tutto rispetto. Parte da terzino ma può fare anche il mediano e onestamente io penserei di poterlo andare a schierare da entrambe le parti, perché? Partiamo innanzitutto dal ruolo di terzino sinistro, a sinistra ci sono dei gran terzini, pochi di questi sono in Premier League e quelli che sono al di fuori della Premier League sono abbastanza costosi. Con questa evoluzione gratuita voi vi prendete un giocatore molto veloce dotato dell'accelerate explosive che sprutta maggiormente l'accelerazione, gran passaggi, 99 agilità, 98 di equilibrio, 93 di reattività, 90 di intercetto, 85 di lettura difensiva e 82 di aggressività. Pecca leggermente nella forza perché è un po' piccolino, però oltre ai playstyle acquisiti dalla Evo c'ha il passaggio filtrante, l'affronta e il press proven delle giocate di classe ci interessa poco. Quindi da terzino questo qui avendo anche alto normale come work rate per chi ha diciamo uno stile di gioco un po' più basato su quello che può essere un terzino sbloccato, questo qui abbina qualità a quantità. Questo qui però per me può fare benissimo anche la mezzala in mezzo al campo, quindi per esempio in un 4-3-2-1, in un 4-4-2 associato a un difensore un po' più fisico, questo vi dà qualità e poi vi dà anche quella tigna mettendogli magari un'ancoretta come stile d'intesa per bustare ulteriormente l'aggressività e andare a recuperare palla. Per cui lui promossissimo e probabilmente Kossonu e Gomez saranno i due che andrò a fare anche io. In chiusura però vi voglio parlare di altri due giocatori. Il primo è Fabiano Parisi che già so che a qualcuno intrigherà per via della suo campionato, ovvero la Serie A, perché sappiamo che gioca nella Fiorentina, è un giocatore di 1,78 m, fa il terzino sinistro, diventa 3 skill e 4 piede debole, 91 di velocità, 85 passaggio, 89 dribbling, 86 difese, 84 fisico, per un Parisi con Controlled Explosive, velocissimo, buoni passaggi, discreto anche il tiro perché 84 di potenza tiro con 80 sui long shot, quindi magari un tiro da fuori esotico ogni tanto ve lo potete concedere. Agilità 88, 89 di equilibrio, 92 di reattività, 88 intercetto, 89 di mentalità e 89 anche di scivolata e contrasto in piedi, bene anche aggressività e forza per un giocatore comunque non altissimo e oltre al playstyle che acquisisce c'è il rapido, l'affronta e anche lui il microonde, il press proven ovviamente che gli deriva dall'evoluzione per affrontare giocatori un po' più massicci. Ovviamente lui lo giocherei da terzino in un ruolo comunque che è affollato per la Serie A perché abbiamo Spinazzola uscito da poco che costa pochissimo e per me è un ottimo giocatore, però se volete avere un innesto ulteriore nella vostra Serie A questo Parisi potrebbe tranquillamente farlo, visto anche gli ottimi playstyle. E invece voglio chiudere con Sophie Svava perché io questa qui inizialmente l'avevo guardata ed ero un po' scettico però poi mi sono andato a vedere le sue caratteristiche fisiche e parliamo di caratteristiche fisiche assolutamente importanti perché è un metro e 73 quindi è una specie di Rolfo se vogliamo, la Rolfo è leggermente più alta però non è bassissima come magari un Atenea, è comunque un giocatore mancino che gioca a sinistra ovviamente e diventa 5 skill, 4 piede debole, 91 di velocità di accelerazione, addirittura 87 di passaggio corto, 82 di agilità, 80 di equilibrio e 93 di reattività. Bene l'intercetto, bene la mentalità difensiva, bene la forza, pecca leggermente in aggressività però ha degli ottimi playstyle oltre quelli acquisiti il tecnico rapido e l'Aerial. Questa qui secondo me utilizzata come terzino di spinta, sempre per il solito discorso che a sinistra ci sono tanti terzini buoni però costano, per me potrebbe essere simpatica visto che vi portate a casa una carta che ha alto normale quindi un buon work rate e per quanto mi riguarda può tranquillamente mettersi lì e dire la sua. Ovviamente se dovete giocare invece con il terzino bloccato lascerei perdere questa carta che comunque vi ripeto è un po' più fragile rispetto a giocatori che abbiamo visto in precedenza. Su Parisi non vi avevo parlato del work rate perché anche lui ha alto normale che comunque è un ottimo work rate perché all'interno di questo pool di carte ci sono dei giocatori che potrebbero essere simpatici però occhio perché ci saranno dei work rate veramente pessimi quindi quelli vanno schippati per me a prescindere. Ragazzi anche per questo video è tutto, al solito vi aspetto nei commenti per sapere quale dei questi difensori si andate ad evolvere e soprattutto quale magari vi intrigava e purtroppo non siete postiuti riuscire a farlo. Io vi ricordo inoltre che sono tutti i giorni live sulla piattaforma viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Liberoschi. A presto, ciao!